Questo è un luogo straordinario che quando, quasi vent'anni fa, sono diventato sindaco di Bari, Maria Maugeri trasformò il luogo dell'abbandono nel luogo dell'esaltazione, del rapporto tra i baresi e l'ambiente, il loro ambiente, ma anche più in generale con l'osservazione della natura. Quindi oggi l'abbiamo ricordata attraverso un oggetto, una meridiana, ma lei è ovunque, in questo momento, nella nostra vita, nelle nostre attività quotidiane e quindi Maria è con noi nel futuro, non solo nel passato e questo per noi è un motivo di grande incoraggiamento e di grande forza.